Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio sottolineare che non sono un influencer, sono un influenzato. Vi volevo portare a conoscenza, stare attenti sul web, dalle cose che vengono detto, tipo a Chiara Ferragni, io non sono un professionista del web, però ricordatevi una cosa, che tra sostenere un ospedale o un'associazione, sostenere e devolvere, fare beneficenza e tutt'altro, ricordatevi, è uno schifo, è un vero schifo, persone che muoiono di fame, persone che sanno, guarda, non dico parola, voglio, ciao, qui è un influenzato che parla, no un influencer, ricordatevi, affidate i soldi quando fate beneficenza, buon Natale e buon anno a tutti.